Qualche giorno fa mi trovavo a Roma e nel parlare con un direttore d'albergo, nonché amico, mi ha detto, Fabrizio ma perché in Meeting Hub non fate gli one to one? Cosa sono questi one to one? Sono quegli incontri dove gli albergatori si siedono davanti ai buyer e propongono la propria struttura. La mia risposta è stata, sai, in Meeting Hub cerchiamo di concentrare le nostre energie sul fare bene quello che sappiamo fare e cerchiamo di non dissiparla facendo un pochino di tutto. Però è anche vero che, risposi a questo amico, se proprio vuoi fare degli one to one ti posso consigliare qualche d'uno che è bravo nel fare questo. Infatti qualche mese fa mi sono trovato con Giancarlo Leporati di Eureka Mais che mi ha invitato al Grand Hotel Baglioni e ho potuto constatare la qualità del loro lavoro. Ho sentito, ho parlato con alcuni albergatori ed erano tutti molto molto contenti della qualità dei buyer. So che a ottobre, dal 24 al 26 ottobre, farà un incontro di questo tipo a Napoli al, credo che al Continental. Se vuoi informazioni ti possiamo dare i riferimenti di Giancarlo e ti consiglio di cuore, se desideri fare questo tipo di attività, di rivolgerti a lui. Per quanto riguarda invece il web, noi siamo sempre focalizzati, cerchiamo di migliorare giorno per giorno il nostro prodotto per cui per qualsiasi altra cosa rivolgiti pure a noi. Per oggi è tutto e ti saluto. Ciao!